Ciao a tutti ragazzuoli, come state? Che dite? Tutto bene? Qui tutto bene. Allora, sono appena tornato dal cinema e ho tanta voglia di parlarvi, nonostante la stanchezza del giorno. Ho fatto un sacco di cose oggi. Ma sono andato anche a vedere tre ore di film in sala. Io, Scarface, l'ho visto l'ultima volta a casa del mio amico Nemuel, quando facevo le medie, ok? Perché? Perché dopo l'uscita di GTA Vice City, Scarface tornò alla ribalta. Vice City è molto ispirato a Scarface, sia per l'ambientazione, le luci al neon, qualsiasi cosa, ok? E tornò di moda anche Scarface, con film in realtà che fra le generazioni più giovani ha sempre molto effetto, tranne forse sulle ultimissime, perché è un classicone totale, cioè non è neanche un cult. Scarface è un classico. Se vogliamo, lo Scarface originale di Howard Hawks è un cult. Perché? Perché da classico invece comincia ad essere sempre meno visto e quindi sta tornando ad essere un cult. Questo qui invece è un classico, uno dei film più famosi della storia del cinema, il film più famoso probabilmente di Brian De Palma e una delle interpretazioni più importanti di Al Pacino. Io adesso non voglio fare un discorsone approfondito sul film perché ma non mi va troppo stanco, troppe cose. Voglio fare un discorso che mi è sovvenuto proprio all'uscita dal film. All'uscita dal film. Quando sentivo, altro easy, delle persone commentare questo Scarface in un modo veramente idiota. Veramente un idiota. C'erano quelli della feta davanti a me che io mi sarei alzato e li avevo presi proprio a schiaffi sul collo fortissimo. Fortissimo perché i classici cinefili, col sigarettino elettronico, no? Così. Ma quella parte lì, ma hai visto quell'inquadratore? È figo, eh? Però, boh, la parte del ristorante. Uno ha detto, la parte del ristorante? Lui fa quel discorso, io sono brutto, ma voi siete peggio. Discorso un po' guerrino, eh? E l'altro, oh, 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 tipo così. Aghiacciante, aghiacciante. È un discorso che ho trovato più violento del film, ok? Quindi io voglio parlarvi di Scarface. Perché? Perché Scarface è un altro film che tutti hanno visto. Difficilmente anche lì qualcuno dice che è brutto. Un po' la Quarto Potere, ma in un modo molto, molto diverso, chiaramente. Ma io mi chiedo, ma Scarface, chi l'ha capito? Perché vi dico sta cosa? Perché io sono uscito dal cinema con degli amici e tutti emazza bellissimo, però film molto cafone, molto estremo, molto gonfio, no? Per carità, tutto vero. C'è un film che non si nasconde dietro un dito, c'è un linguaggio cinematografico molto potente, c'è un massimalismo in molte cose. Quindi risulta essere un film cafone. È il film in cui, forse, si dice più volte in assoluto la parola cazzo, quindi è uno dei film più censurati, esiste la versione in cui la parola cazzo viene molto, molto ridimensionata. Ma è un film che io a un certo punto gli ho chiesto a tre dei miei amici di che parla Scarface. Perché? È chiaro. Non perché non lo sapessi in senso stretto, perché fa strano che tu esce da un film del genere e uno ti chiede, ma di che parla sto film? Come è? Certo, se capisce di che parla? Cioè che c'è da capire? E invece no, regà. C'è tanto da capire in Scarface. C'è tanto da capire nel cinema. E c'è tanto, e questo lo dico ai migliori di voi, da rimanere, c'è tanto di cui rimanere così un po' incuriositi, affascinati. Ci deve essere sempre lo spirito della scoperta. Un film come questo, che è un classico, va visto sempre con l'idea di volerci cercare qualcosa che magari fino ad oggi non è stato ancora colto. Poi chiaramente non ci si riesce, perché sono 40 anni che lo studiano, ci fanno i libri, quindi nessuno di noi potrà trovare qualcosa di realmente nuovo in Scarface. Però il classico va analizzato nell'ottica sempre della ricerca probabilistica, della possibilità che veramente si anela di poterci trovare qualcosa di nuovo. Perché il classico è classico quando dopo dieci anni arriva il punto di vista nuovo. I grandi classici, quelli veri, sono quei film che quando li vedi, anche se ne hai sentito parlare molto, dici però sta cosa non l'ha detta nessuno. Detta. Poi se ti metti a leggere trovi di tutto, come dicevo poco fa. Questo è il tipico esempio di questa cosa. Per esempio, chiedo al mio amico Simone, che è un grande appassionato di cinema e che ha fatto una lettura molto interessante del film. Però di primo acchietto lui dice questa cosa. La spregiudicatezza di Tony Montana lo fa ascendere e poi lo fa crollare. Ok? In questa parabola che l'altra mia amica Giovanna faceva proprio... Il film è una parabola, poi così. Parte proprio e si schianta poi in basso. anche proprio fisicamente magari nel personaggio di Tony Montana, no? Dell'ultimissima scena. Benissimo. È tutto vero. È tutto vero. Ma è riduttivo dire questo. È un po' riduttivo e vi dirò secondo me il perché. Allora, innanzitutto una cosa di cui non ho sentito mai parlare fino ad oggi da tutti quelli che Scraffessi l'hanno visto anche 30 volte. Ma perché? Qual è il problema? poi di quando si vede un film così conosciuto che invece rispetto a quello che proponevo poco fa la ricerca comunque la tendenza a voler cercare qualcosa che non è stato detto ancora. Quindi tanto poi ce la si fa e lì escono i libri belli belli dei cinema nel 2004. Quando tu prendi il film vecchio 40 anni e cerchi forse riuscendo a dire qualcosa di nuovo. Qualcosa che magari hanno detto due in Scandinavia tu non lo sai pensi di essere stato il primo tra i pochi nel tuo paese e quindi sei contento così. Bene è un servizio interessante anche quello ma Scarface è un film impressionante perché è impressionante Scarface? Scarface è un tipo di film che impressiona già da subito prima scena primo piano dal pacino che parla con le guardie dopo tutta la parte un po' più documentaristica no? Va bene lì dice innanzitutto quanto è bello al pacino in che c'è un fascino assurdo è viscerale già nello sguardo già nel modo io non so quanto e come riesce ad entrare così tanto in quel personaggio fatto sta che è per tre quarti vero ok? Vero soprattutto nella prima parte perché poi a un certo punto essendo questo un film mutevole Tony Montana parte da persona vera in qualche modo a idea di una persona a ideale questa è la trasformazione del personaggio si parte da una bozza di realismo si diventa poi qualcosa a metà con l'idealistico e si finisce proprio sull'idea sull'idea pura ok? questo è un personaggio shakespeariano la cosa impressionante già da subito è il livello di realismo di questo personaggio nel modo di porsi e nella recitazione pura cioè qui c'è un modo di recitare c'è un un metodo Stanislavski impressionante ai massimi livelli che è ciò che distingue tendenzialmente lui da un attore come per esempio Robert De Niro entrambi estremamente realistici ma in un modo completamente diverso lui quando parla all'inizio e c'è quell'accento un po' appunto cubano tu dici ma aspetta un po' ma questo è proprio è un personaggio vero ma che sto a vedere lui quando parla senti nelle sue parole quando dice quella cosa sul comunismo tu cazzo è come se sentissi parlare un gangster vero un protogangster in quel caso di un fenomeno reale e lì c'è già qualcosa di violentissimo nel film quel modo di porsi di Tony Montana da subito è la cosa forse più violenta del film ma come che la dopo smitragliate spari cazzi no regà la vera violenza in Scarface non parte dalla scena dalla motosega ma parte dalla primissima inquadratura di Tony Montana quel suo modo di porsi talmente realistico di risultare violento perché la recitazione in Europa soprattutto non arriva mai a quegli estremi perché si rimane sempre in un modo più storicizzato un po' più teatrale poi dipende anche dalla nazione ma che non raggiunge mai quei picchi lì perché quasi diventa scomposta diventando troppo reale diventa quasi l'antitesi della recitazione e quindi si entra un po' in una contraddizione di termini clamorosa che ha portato a dei risultati incredibili ma che è tipicamente americana è tipicamente anni 50 anni 60 70 80 in maniera anche lì sempre un po' diversa quindi prima cosa che mi ha colpito e che non avevo mai sentito raccontare da nessuno questa recitazione da subito iper realista e quindi violentissima violentissima il film avanti scena della motosega e quindi la già vedi De Palma no questa macchina da presa glielo dicevo alla mia amica loro che salgono in questa stanza d'hotel la macchina da presa che sale le scale con loro a distanza senza fare le scale così virtuosismo motosega macchina da presa che entra nel vetro e scende poi dalla macchina prende torna indietro e rientra nel vetro in questo gioco di campi e contro campi attraverso il vetro di questa stanza d'hotel il fuori e il dentro il paradosso ciò che accade dentro rispetto a ciò che accade fuori da motosega che taglia le braccia di uno versus uno che pacca il culo della biondona fighissimo e si va avanti eccetera 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 a un certo punto subentra Michelle Pfeiffer subentra l'amore subentra la famiglia di Tony Montana tu vedi la sua parte più pura ok vedi come si comporta in amore e come si comporta invece nella fratellanza con la sorella Gina e il rapporto da figlio che ha con la madre e lì già vedi un'incomunicabilità madre figlio che comporta determinate cose che poi vedremo nella figura di Michelle Pfeiffer senza eccessivi psicologismi ok perché perché Scarfay sono firme di idee di ideali scusate la dico ancora meglio non solo di idee tutti i grandi film sono fatti di idee questi sono film di ideali e questo lo rende un capolavoro Scarfay è un capolavoro ok non è uno dei massimi capolavori della storia del cinema ma è uno che ha le caratteristiche del grande classico e quindi del film che nonostante non raggiunga dei vertici assoluti a livello qualitativo comunque sta bene come preferito nel cuore di tantissimi questo è un film che giustamente deve essere il preferito di tantissimi è un film che ha fatto dei danni inerrabili la figura di Tony Montana ha ispirato tanti di quei criminali ma non perché ha colpato il film ma perché è la gente che è psicolabile sia chiarissimo però è un film talmente eccessivo anche nei suoi ideali facilmente poi travisabili che ha fatto dei danni incredibili sto film questo è un film che non parla solo della spregiudicatezza di Tony Montana questo è un film che fa decadere la figura di Tony Montana non per la spregiudicatezza che gli viene cucita addosso assolutamente no la spregiudicatezza sua è figlia del suo trascorso e lo porta su ma non è la stessa che lo porta giù ciò che lo porta giù è tutta un'altra cosa ed è se vogliamo forse il contrario della spregiudicatezza la spregiudicatezza semmai non è ciò che lo fa morire ma è ciò che lo rende immortale a lui a lui questo è un film in cui la sua persona a un certo punto dopo che raggiunge il potere diventa simbolo di ciò che in America non funziona questo è il film che parla di un cubano e qui c'è l'invenzione geniale dello sceneggiatore Oliver Stone assieme appunto al regista Brian De Palma che capiscono benissimo che nella figura del cubano che venendo dal comunismo e dalla povertà e dalla criminalità anela in una maniera ancora più estrema alla ricchezza americana al capitalismo americano non so se molti di voi lo sanno ma i cubani guardano con un misto di invidia e di non so veramente con gli occhi strabuzzati l'American way of life loro che vivono comunque tendenzialmente in povertà guardano all'America come la terra delle opportunità con un misto veramente di invidia ma anche di apprezzamento di meraviglia è un sogno che si invidia da vicini di casa se vogliamo quindi che più di un cubano che viene dalla povertà in quegli anni poi ancora peggio che oggi giustamente può anelare così tanto all'American way of life e quale strada è più veloce rispetto a quella criminale per uno che non sa fare altro che il crimine questa è una cosa importantissima molto detta per fortuna ma che risulta essere poco chiacchierata e discussa fra chi guarda il film e si ritrova lì fuori la sala ci si ritrova più facilmente a fare discorsi sui grillini che sul film che si ha appena visto denotando che si è capito poco sia le grillini che del film e quindi Tony Montana nonostante tutti gli dicano durante il film guarda che te spasci guarda che di quello non te devi fidare di quell'altro non te devi fidare Tony Montana non si fida di nessuno si fida solo del suo amico e a un certo punto quando comincia a non fidarsi più di nessuno travasa questa insoddisfazione e questo spirito di sospetto di gelosia di orgoglio e quant'altro anche sulle figure a lui più prossime a cui li vuole più bene arrivando a dei picchi tragici lui tendenzialmente non fa altro per tutto il film che volersi arricchire e voler raggiungere quest'idea di the world is yours la metafora geniale della cioè quello slogan è della Panamerican ok il mondo è tuo ce l'hai a portata di mano ma non perché ci vuole viaggiare perché te ne puoi impossessare e questo paradosso a chi arriva più forte di uno che si trapianta in America col bisogno dell'America e trova quindi la soddisfazione nell'americanizzazione della ricerca dei beni della ricchezza proprio dell'edonismo puro ecco questo è un film in cui una volta che lui ha raggiunto quello quando comincia a crollare Tony Montana quando viene accusato per frodi fiscale tendenzialmente riciclaggio e tutte queste cose qua quindi va sotto i riflettori da criminale comune raggiunge veramente un picco di ricchezza dopo diversi tradimenti e quant'altro da tradimenti però che noi nel film comprendiamo e quasi appoggiamo quindi c'è anche questa sensazione di sporcizia che ti arriva addosso perché tu patteggi per lui tifi per lui soprattutto in determinate fasi del racconto e poi dici ragazzi però ma per chi cazzo sto a patteggiare ma mi sono impazzito ecco che succede? arriva sotto i riflettori e c'è quella famosa scena innanzitutto di questa non ne parla nessuno quando lui fa il paragone di Michelle Pfeiffer e la tigre c'è questa cosa geniale di lui che sposa Michelle Pfeiffer e mentre c'è la cerimonia la porta in giardino e gli fa vedere la tigre legata all'albero ok in questo modo un po' in questo questa parte un po' più esotica del suo giardino fatto sta che qualcuno direbbe allora lui ha detto a lei che sembra una tigre lui è riuscita a sposarsela la tigre la guinzaglio molto bene ma troppo facile troppo facile lì la genialità di De Palma si fa dubbio quella tigre è sì Michelle Pfeiffer ma quella tigre è anche lui lui nel momento in cui agguanta Michelle Pfeiffer la porta sì nella sua gabbia ma alla sua maniera raggiungendo quel traguardo che a suo dire era l'unica cosa che gli mancava per raggiungere l'apice diventa esso stesso sia l'albero che tiene la tigre sia la tigre che è tenuta dall'albero questo è geniale geniale perché poi la sua vita da quel momento in poi diventa l'essere oltre che il centro del suo mondo l'unica persona di cui si fida l'unico questa è la maniera un po' del contadino l'unico che pensa di poter affrontare determinate situazioni con la voglia sia di proteggere gli altri sia nel sospetto degli altri ok e che cosa accade che da quel momento la sua vita diventa una prigionia la vita di Michelle Pfeiffer diventa prigione perché c'è una famosissima di loro al ristorante lui gli rinfaccia delle cose a lei e lei gli rinfaccia delle cose a lui l'insoddisfazione di lei è data dallo stile di vita che lui gli ha imposto e l'insoddisfazione di lui è data dal fatto che non c'è più niente da raggiungere si sta perdendo il controllo degli affetti tutti potrebbero essere felici ma nessuno è felice ok e qui c'è la grande contraddizione dell'edonismo americano di questa terra promessa no che lui aveva sempre ambito a raggiungere e che poi diventa in questo gioco di scatole diventa allo stesso modo l'albero che tiene la tigre e la tigre che tiene l'albero e a un certo punto tiene per le palle l'America ma è il capitalismo in realtà che tiene per le palle lui ok quindi che cosa accade fisiologicamente lui dal momento in cui comincia a perdere Michel Pfeiffer che lo lascia perde ciò che l'aveva portato all'apice lui comincia a scendere scena incredibile di lui che dice a tutti quanti mo ci sto io cioè altro che grillina altro che scena grillina qua fate schifo qua siete tutti ricchi tutti siete ricchi chi non moto chi nell'altro qualcuno di voi non ha ammazzato qualcuno di voi probabilmente ammazzato qualcuno di voi si sporca le mani qualcuno di voi fa sporcare le mani agli altri fatto sta che stiamo tutti qua ricchi ma voi mi guardate a me con schifo perché io vado sui giornali voi no voi siete tanti state nelle vostre case e nessuno ci mette la faccia io ci ho messo la faccia e quindi siete meglio voi o so meglio io chi è meglio no famo schifo tutti e lui lo sa e da lì inizia il suo decadimento come persona nella sua immoralità si cade sempre di più nell'immoralità nell'immoralità sociale però perché poi invece che cosa accade e questo è dirimente lui quando è che si si dichiara morto che cammina nel momento in cui spara in faccia al bombarolo quello che piazza la bomba sotto la macchina perché tu ammazzeresti chiunque se è un sicario non c'hai scrupoli io non so come te io i bambini non li ammazzo assurdo no Tony Montana che si fa dei problemi probabilmente sì perché per una persona che ha vissuto la povertà come tanta criminalità di strada e quant'altro anche se sta cosa si è molto persa e forse neanche c'è mai stata questa fa parte della narrazione del del criminale della poesia sul sul criminale del del criminale gentiluomo no ma tu stai che Tony Montana dichiara la sua condanna a morte nel momento in cui decide di non uccidere quei bambini avendo degli scrupoli lui in quel punto della storia viene respinto da un mondo che veramente scrupoli non ne ha e quindi Scarface è un film sulla spregiudicatezza anche ma non è un film sulla spregiudicatezza è un film sulla spregiudicatezza quanto quarto potere è un film anche sulla politica ma non è solo quello ok queste sono cose importanti da dire io mo sto stanco non mi vengono le parole me impicio sto completamente nel pallone però ne voglio parlare di sta cosa è importante quel the world is yours è importante l'america il capitalismo la criminalità è quella che a un certo punto lo porta a trovarsi davanti un banchiere che parla come lui quando è andato a trattare per la prima volta della cocaina con col tizio lì andino ok il banchiere parla come lui parlava a quell'altro tanto che Tony Montana gli dice al suo sodale ascoltalo senti com'è convincente impara da lui senti com'è parla ma quello è un banchiere quello è un banchiere che viene stimato per la sua parlantina e per il suo essere convincente da un criminale da un gangster da un mafioso praticamente ok tutto ciò tutto questo giro che si innesca fa sì che lui oltre a calare sempre di più nei gironi infernali si ritrova venire ucciso alle spalle lui a un certo punto quando combatte il capitale faccia a faccia lui che ci mette la faccia lui è mortale non cade per terra non va giù che cosa è costretto a fare l'America a ucciderlo sulla schiena lo butta a faccia in avanti lui cade sotto a questa scritta the world is yours nella contraddizione di qualcuno che probabilmente il mondo l'aveva conquistato senza riuscire veramente ad appropriarsene perché il mondo non è di nessuno o soprattutto e soprattutto non lo è come l'American way of life vorrebbe farti intendere non è proprio così non è proprio così l'edonismo che è illimitato questo solipsismo che fa sì che da ogni parte Tony Montana veda delle probabilità e delle possibilità per se stesso denotano oltre che una sua incapacità affettiva ed emotiva che lo porta a comportarsi in un certo modo con la madre con la sorella e anche con l'amico ma anche mette mette proprio in mostra questa questa impossibilità la farsa del veramente del sogno americano che c'è convince tutti ma è una condanna auto-infritta per le persone soprattutto per i più fragili perché sembrerà assurdo ma Tony Montana è uno dei personaggi più fragili che appaiono all'interno del film che ho visto fino a un'ora fa in sala assurdo vero? probabilmente sì ma così è e questa è un'analisi profonda che non sto qui a fare ho parlato mezz'ora avrei dovuto parlare molto meno video verboso ripetitivo non me ne frega un cazzo volevo dire delle cose volevo dare degli spunti questo è un film su cui bisogna fare un approfondimento lunghissimo tocca fare un best of movies come lo faccio per la musica ma io su questa cosa mi batto per me è importante che ognuno di voi che seguite il canale perché se mi seguite probabilmente tenete anche alle mie opinioni e alle mie idee gli poniate un po' come mi pongo io quando guardo un'opera una possibile grande opera o in questo caso molto facilmente una grande opera riconosciuta con curiosità senza star lì a fare gne 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 o a giudica subito o ma quanto è invecchiato male ma hai sentito la colonna sonora ma però hai visto questo così questo cosà bello brutto senza voler mostrare di padroneggiare un film che è semplicemente perché l'avete visto 30 volte perché io ho visto film accanto a persone che lo conoscevano a mena dito quel dato film ma che quando ci siamo trovati a confrontarci non ce l'hanno capito un cazzo perché dei classici nessuno pensa di poter scovarci più niente e invece nei grandi film se grandi lo sono davvero si c'erano sempre dei tesori dei misteri dei punti di vista nuovi perché l'arte essendo fatta di segni è interpretabile e mai scienza esatta questo ricordatelo sempre quindi andatevi a vedere Scarfessi in sala e trovate cercate dei punti di vista nuovi venite qui a commentare con me ne parliamo qui giù su instagram seguitemi mi raccomando trovate tutti i link qua giù in descrizione mettete like al video iscrivetevi è importantissimo perché sennò perderete i prossimi contenuti che caricherò eccetera eccetera senza che faccio self publishing non mi interessa io non credo nel sogno americano non penso che youtube potrà diventare mai fonti di ricchezza economica ma per me semplicemente lo è da un punto di vista magari culturale perché ho conosciuto tanta bella gente ho avuto tantissimi bei confronti eccetera eccetera non c'è niente di etonistico nel mio fare youtube ok a differenza di molti americani che ci campano ma anche europei ma anche italiani e sono stato qui mezz'ora a parlare semplicemente per cercare di aprire una prospettiva nuova ho dato tanti spunti ma a me mi interessa anche semplicemente un un segno nuovo il fatto che io vi abbia parlato per esempio della dicha relegata dandovi magari uno spunto analitico in più è il grandissimo successo di questo video di 30 minuti e 50 secondi non lo so io vi ringrazio per avermi fatto compagnia anche se sto parlando con una webcam e già mi sento parte di un discorso con voi che questo video lo vedrete nei prossimi giorni grazie per avermi seguito oggi grazie per il fatto che mi seguite guardate Scarface guardate più film possibili di Brian De Palma e parliamone su Instagram sui social do cazzo dove pare va bene ragazzuoli vi auguro buona notte anzi buona giornata per chi video li carico sempre in tarda mattinata e ci vediamo ad un prossimo video ciao questa è una piccola postilla al video mi è venuta a mente adesso proprio alla fine ragionate anche su questo l'ultimissima parte del film vi dicevo l'uccisione da dietro ma già tutto cambia la musica diventa tutto allucinato lui si è pippato il mondo ci sta questa cocaina che rappresenta delle montagne ormai la cocaina stessa rappresenta un impero una gigantografia di ciò che Tony Montana è diventato ok lui è veramente il cittadino Kane a un certo punto ragionare su questa cosa anche che cosa accade entra dentro casa lui perde di vista le telecamere perché ormai è successo il finimondo ormai tutto è irreparabile perché perché lui avendo perso l'amore non potrà che perdere tutto il resto finché cercava l'amore e lo ambiva poteva acquisire nel momento in cui perde l'amore si accartoccia tutto quanto che cosa accade nella sua villa entrano delle persone ok qualcuno subentra dentro Xanadu non sono dei giornalisti sono dei criminali sono altri Tony Montana sono scagnozzi di non hanno scrupoli ammazzano donne come se niente fosse perché l'imbarbarimento peggiora col tempo ok e simbolicamente quanto vale quest'invasione di destitizi dentro casa sua il fatto che lo uccidano dentro la sua casa una casa che è rappresentazione del mondo ragazzi veramente Xanadu cioè io ci ho pensato proprio alla fine del video lo vedete semioticamente quante cose escono fuori lui ha il mondo a un certo punto dentro casa si è portato tutto dentro ma non le opere d'arte non è il cittadino Kane si è portato tutto ciò che è la ricchezza per l'americano il denaro il denaro la droga il sesso l'edonismo puro questo è un discorso che farebbe molto contento il mio amico Federico Fruscianti ma fra l'altro lo devo contattare forse facciamo un video insieme comunque che cosa accade entrano da lui e simbolicamente uccidendo lui da dentro diventano in maniera multiforme dopo soprattutto ciò che era accaduto con la sorella veramente in maniera ultra polisemica diventa la psiche che lo pervade che lo invade diventa il mondo criminale che lo assalta diventa il capitalismo che lo mangia invadendolo diventano quasi gli americani che tipicamente invadono gli altri per arricchirsi e cibarsi appunto delle ricchezze degli altri pensate a quello che è successo che succedeva in quegli anni e anche pochi anni dopo e rappresenta proprio anche il fatto che c'è sempre qualcuno più povero di te e più affamato di gloria di te c'è sempre qualcuno più bisognoso che può superarti oltre che per ambizione per spregiudicatezza per violenza per mancanza di scrupoli eccetera 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 il capitalismo è una bestia che si autoalimenta e si autodivora questo è questo è un piccolo spunto un altro piccolo spunto che volevo lasciarvi prima di concludere il video mi raccomando fate i bravi ragionateci e fatemi sapere va bene ok grazie a tutti